In sostanza, qual è il futuro della scuola italiana? Quante ore ho? Un minuto? Un secondo? Ma guardi, sarà un futuro luminoso se come ho detto, oltre alla lucidità dell'analisi, alla lucidità degli obiettivi politici, ci sarà anche il coraggio e l'ambizione di destinare le risorse che servono, perché se no senza risorse, o se preferisce senza soldi, non solo la politica ma anche i migliori sogni diventa la costruzione, non è questo che vogliamo fare. Grazie a te, arrivederci.